interrompiamo le trasmissioni di questo palinzesto per annunciare un nuovo dpcm da stasera sarà impossibile vivere se non si guarda il tribale bestie podcast di conseguenza passiamo ora ad allietare la vostra serata con la partecipazione di una delle mentalità più controllose con boss e competitive di magic scusate o mi è arrivato a no l'ospitata di tian è saltata e allora ci accontenteremo del più bello invece che uno di uno dei più bravi signori e signori al tribale bestie podcast jack massimiliano sacco torrens persa non si vede giustamente subito non si vede persa ma presidente pessimo l'ottimo presidente comunque ti sei dimenticato almo reginaldo maria se ti chiami almo reginaldo maria perché non lo sai ma prima del cane morto è vero è vero non mi ricordavo almo è certo perché almo è stato poi quel nome indovinato nel periodo di hs prima del cane morto c'era indovina il nome segreto di jack torrens uno dei miei nomi è almo colui che ha indovinato almo poi ha vinto 20 bustine di arston che bella arston c'è massimiliano almo reginaldo maria 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 alla fine sono maria mi puoi chiamare maria c'ha un nome per ognuno dei suoi figli legittimi allora maria benvenuto a altri valentieri grazie grazie sono onorato io io volevo infatti dire subito che stasera è fondamentalmente io che ho organizzato un appuntamento al buio tra jack il primato maglificio romagnoli perché sai che ho altri gusti perché non si conoscono e allora prego vi metto qui vi osservo e vi guardo mentre vi fate i rocchettoni a vicenda prego 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 ci fai appuntamenti al buio con cioè no primarie poi al buio che al buio è che c'era pure il posto con la mia faccia cioè segreto di pulcinella ma era il buio che è un rocchettaro jack sì sì abbastanza mi piace rock hard rock metal tutto grande siamo siamo già sul sul mood giusto grande fino scotto fino scotto uno di noi maria io esco jack allora dai questa puntata del tribale bestie podcast sì questo ormai sta diventando un un podcast noto celeberrimo per andare ad esplorare quello la persona da noi gli ospiti rivelano il lato inedito quindi partiamo da una bc una bc come nasce jack torrens lo streamer la quella scintilla che ha detto poi sai cosa faccio inizio a mettermi davanti a una webcam mi faccio le streamer mi sentivo solo ero un disadattato le persone mi scansavano ed allora ho deciso di trovare degli amici su internet degli amici finti degli amici finti amici falsi no in realtà sono sempre stato appassionato di giochi di carte giochi di cazzi sono partito rubando i soldi alla famiglia a sette e mezzo e poi sono passato a yugioh quando c'è stato il boom yugioh è partito col cartone animato poi ho comprato le carte false di yugioh come tutti poi abbiamo scoperto che erano false poi sono arrivate quelle vere tra l'altro in questo periodo è incredibile molto florido per quanto riguarda giochi di carte collezionabili del passato tra cui pokemon e anche yugioh c'è gente sta sta facendo stipendi comprando e vendendo pokemon adesso invece e anche con yugioh stanno facendo questa cosa tipo lo starter deck di yugioh e di kaiba che io ovviamente comprai al negozio al day one quando tutti adesso tipo vale duemila euro chiuso quello sigillato quello sigillo certo sigillato sì 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 quindi ho iniziato diciamo sono sempre stato appassionato i giochi di carte poi sono passato a magic poi al poker poi al nulla e poi poi a dragon ball card game no quello l'ho missato però sai cosa giocavo io da piccolo che non lo cagava nessuno infatti si giocava io e un mio amico si giocava a digimon cioè era il gioco di carte dei digimon era molto bello io trovo le card dei piccoli in realtà noi eravamo già un po' più noi eravamo più grandi cioè tu praticamente a rubare i soldi della famiglia e poi dopo sei passato a rubare i soldi dei bambini cioè quindi una discesa verso l'inferno assolutamente sì rubavo i soldi ogni tanto mangiava una testa di un pipistrello tipo definiamo rubare io non rubavo effettivamente una cosa trovavo riprovevole ci risociamo facciamo degli scambi molto dai rubanti facciamo lo vedo lì col camioncino sai bambino io ti do questo foresta mi dai il black lotus no questa palloncino calavo dei pacchi incredibili cioè assoluti vabbè ma come tutti insomma abbiamo subito pacchi nella nostra vita poi li abbiamo dati soltanto è prenderli e restituirli e ridarli restituirli è arrivare ad essere altruistico è arrivare ad un punto esatto elementale del legno per mare sotterraneo è una terra bambino è una terra non serve è una terra mare sotterraneo tipo una taiga lo fa moralmente non era così sbagliato ma che cazzo dice sbagliatissimo no eravamo entrambi i bambini cioè io ero grande rubavo la caramella al bambino no è sbagliato se te lo sai è moralmente sbagliato se lo sai non puoi dire che sia moralmente giusto lo sai è sbagliato lo fai lo stesso vabbè poi dico era tutto relativo nel senso cioè per me lo scambio era conveniente io manco sapevo quanto valevano le carte ai tempi non si sapeva quanto valevano le carte di yukio semplicemente si sapeva che era una carta forte cioè il valore della singola carta andavo a farmi scambiare era dato dalla sua popolarità all'interno della fumetteria cioè quella carta vale 10 ultra rare cioè abbiamo inventato noi questo valore cioè non è che c'era qualcuno che ce l'ha detto su internet non c'era magic card market la truffa giustamente perché tu non sapevi il valore però il tuo album era pieno di mari sotterranei mentre l'album dei tuoi amici bambini era pieno di paludi aveva aveva tipo 10 zio istvan no magari pisole e paludi e tu avevi la metà di mari sotterranei purtroppo comunque il karma ci ha puniti perché tutti poi ci siamo tolti le carte di magic e alla fine abbiamo perso miliardi di euro perché quelle carte poi si sono rivalutate tantissimo comunque per tornare sul binario della domanda ho preso la tangenziale ma noi siamo qua ascoltare le tue tangenziali stasera allora bene allora per me ti puoi anche mettere a parlare un'ora di cose che ti pare noi ci mettiamo qua a ascoltare nel frattempo mi faccio un monologo sì 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 vabbè fondamentalmente caro caro delmo e caro premiato maglificio ho grandi difficoltà a nominarvi tra l'altro goli e berro meglio ok berro è goli 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 e berro ecco fondamentalmente a un certo punto mi regalano per il compleanno nel lontano 2018 2016 mi regalano diablo 3 che sarà il mio primissimo gioco blizzard dovevo scegliere un nickname al mio personaggio siccome in quel periodo mi stavo appassionando tanto ero già appassionato da un bel po di tempo però ero davvero felice di fruire della cinematografia mondiale di qualità decisi decisi di nominare il mio personaggio il mio primo personaggio jack torrens che mi piaceva molto il shining l'interpretazione di jack nicholson solo che invece di dare il nome al personaggio diedi il nome all'account una cosa completamente casuale completamente casuale niente quindi mi chiamai jack torrens su diablo poi usci un card game quindi si riaccende la fiamma del card game sempre su blizzard gratis di nome harston a quel punto dico cazzo come faccio a non giocare tra l'altro mi regalarono la key esattamente nel giorno del mio compleanno quindi niente iniziai a giocare ad harston e mi portai da un gioco all'altro lo stesso praticamente nome perché l'account è sempre unico quello di battle.net e quindi mi chiamavo jack torrens anche su su harston iniziai a giocare ad harston vincevo in italia iniziai a creare una pagina facebook visto che vincevo per flexare il rank e niente fondamentalmente diventai diventai noto nella scena italiana di harston competitiva e a quel punto a quel punto vedevo che su twitch c'era questa realtà in cui anche altri italiani streamavano e che magari erano come dire dal mio stesso livello di skill o addirittura inferiore ho detto ma si sai che c'è proviamo a streamare e chi è conosciuto a quei tempi che streamava anche lui e poi era tuo compagno di team biscaf me e te sì tu non streammavi all'inizio si che streammavo nel 2015 tu streammavi mi sa che non t'ho visto sì 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 mi ricordo ai primissimi mi ricordo tu mi ricordo claudia scris eh sì io sì viking duck ai tempi s'era i dieci stronzi che poi sono diventati tutti bombe sì ma sai che non mi ricordo sai che non me lo ricordo cioè mi ricordo che frequentavi tantissimo se erano tutte e due se erano tutte e due nello stesso nello stesso team quindi cioè alla fine anche me li ha tutti usciti da là sì sì quello sì quello sì però mi ricordo che eravamo spessissimo alla fine sullo stesso team speak madonna che meraviglia eravamo su team speak tutti i giorni io ho dei ricordi di quel team speak peraltro da quel team speak qui si tira una chicca fuori forse non è mai stata detto magari sì nel senso è andata persa negli anni da quel team speak anche se non c'entra niente con con magic o arston o con o con quel team in generale da però da quel team speak è uscita per caso un'altra che sarebbe stata poi futura streamer e ora è streamer attuale ricordi chi donna sì che era arrivata nel team speak perché era fan di royal mail oddio non lo so alice prayer ah sì e non me la ricordo alice l'abbiamo conosciuta tutti perché venne portata sul team speak da royal mail perché lei era sub di royal ok questa cosa mi vecchi tempi sì sì lei tecnicamente è nata da quel team speak è nata da quel che c'è quel team speak ha fatto partire tutto quel team speak ha creato il meme del ragazzi concentriamoci quel team speak ha creato ha creato twitch italia oh se ci pensi c'era yagmot io te yagmot c'era walli c'era tutti 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 viking pure viking viking certo viking voglio tirare vicious vicious veniva spesso anche su quello che hai detto su quello che hai detto di diablo perché voi parlate al passato di quattro anni fa per me è un attimo cioè è qualche giorno fa è un passo ma allora ci saremo sicuramente io sono stato vabbè con diablo avevamo fondato una gilda e siamo stati tra la gilda più grande capisco no ma io diablo 3 comunque non l'ho mai portato in streaming io il mio streaming parte con arston giocavi in giro dove giocavi no non giocavo in giro giocavo per cazzi mia giocavo con gli amici per cazzi suoi basta sì 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 non ero competitive diciamo su diablo però ci ho passato svariato ancora ricordo il tempo di ore 512 ore di gioco che per me erano tante non Mario c'è gente che mi fa per altre persone faccio ridere c'è gente che ha decine di migliaia di ore ah beh noi avevamo sulle 2-3 mila ecco già mi sembravano tante 500 ma sì ma guarda che diablo comunque in quegli anni che è stato il momento in cui smisi un attimo di giocare cartaccio ci siamo rifugiati un po' su giochi online abbiamo iniziato con diablo è andata bene poi dopo airstone poi dopo hots e poi dopo sono riapprodato su magic arena dopo simulatore di colpo grosso no non c'è quello purtroppo non c'era no pensavo fosse una gilda pensavo che magari con nick me ti riconoscevo magari era una gilda no ma no non credo perché no no non era una gilda tryhardavo però non era una gilda insomma non ero un top player di diablo però mi piaceva un botto il gioco ci abbiamo giocato ci abbiamo giocato proprio per il puro senso di giocare ma c'era anche Giannetto tra l'altro io dico una cosa che alcuni capiranno altri non capiranno io in quel periodo su diablo 3 giocavo con Giannetto e Paolone mamma mia vabbè io la capisco io l'ho vissuta e a magic come ci arrivi Jack? a magic ci arrivo appunto perché intanto era un gioco di carte mi sono appassionato con il cartaceo quando ancora ne esisteva arena quando non avevo manco internet a casa e poi ci si ritorna con mtg arena su magic come hai iniziato su magic? su magic allora ho iniziato a giocare a magic quando c'era il blocco darksteel tipo la prima espansione che vedo uscire cioè il primo playlist che vivo è campioni di kamigawa smetto poi post mi sembra nel blocco lore win smetto di giocare e riprendo un paio di anni fa con l'uscita di guild of ravnigas mtg arena questo diciamo è il mio quindi mi sono perso una bella fetta come? non hai fatto la beta di arena ho fatto la beta sì però non ci ho giocato l'ho snobbato non hai giocato arena già quando c'era monket sì però pochissimo non è che ci giocavo veramente non era il mio main game ci ho giochicchiato un pochino ancora non mi ricordavo un cazzo di regolo perché io sono molto così io proprio cancello elimino l'hard disk lo svuoto e riparto non riesco non ricordo un cazzo quindi ho dovuto ricominciare a giocare a magic reimparando tutto ovviamente già c'era una predisposizione sia per i giochi di carte che per magic perché ci avevo giocato in passato anche competitive però non mi ricordavo quasi niente vabbè a parte arston non ci sono regole l'inizio primo impatto in tg arena è stato negativo proprio gli ho dato una guardata di primo impatto non mi aveva preso in tg arena poi poi diciamo ci sono ripassato sopra perché la wizard ha fatto una sponsorizzazione ha pagato vari streamer mille dollari per streamare tipo una settimana di magic io facevo arston in quel periodo lato ho detto vabbè mille dollari per giocare a magia ma si va ci sta bene e poi da lì non ho più smesso però porca miseria è stato quasi un male questa cosa era meglio non accettare che poi diventare una droga come mai ha calcificato così tanto magic da snobbare prima magic arena poi arrivi che ti ci trovi dentro e non lo molli più è perché magic è comunque il gioco più bello di carte mai creato collezionabili alla fine mi piaceva tantissimo prima avevo mollato tutto per me tutti i giochi precedenti li avevo mollati in funzione di magic alla fine non lo so non mi aveva convinto tanto la piattaforma troppo brutta rispetto a quella blizzard anche a quelle avversarie tipo quelle della riot per lì copri una terra eccetera artifact non lo so non mi aveva convinto mi dava troppo poco l'impressione mi dava troppo l'impressione di non essere un videogame ma di essere una piattaforma di simulazione certo molto meglio di mtg online però venendo da arston insomma poi non lo so non mi aveva non mi aveva preso poi poi è riesplosa la cosa perché comunque nel frattempo l'hanno un po' migliorato il client poi magic è sempre magic ci ho giocato sono stato forzato a giocare capito sono stato forzato a giocare per una settimana prima non ero forzato da nessuno a giocare di nuovo a magic nel momento in cui sono stato forzato e poi riesplosa la magia si è fissata la magia e non ti ha più lasciato dai quindi riesplosa partiamo subito con un flame si vai mi piace così allora questo se tu adesso da giocatore di entrambi i giochi come match del resto perché anch'io conosco a Ayrston si che ho giocato nel periodo Blizzard che giocava tutto giocavo anche a Ayrston faccelo questo paragone facci un flame ma Ayrston è magia e Arena vediamo se tra Ayrston e Magic Arena dici quello che mi aspetto che tu dica ma in realtà vai a deluderti sono due titoli molto diversi vanno bene entrambi secondo me sono cose molto diverse imparagonabili la gente che preme su Ayrston affinché sia un gioco più skill based affinché l'RNG venga ridotto io sono assolutamente contrario a questa cosa secondo me Ayrston è bello perché è casuale proprio perché c'è quel clima da clown fiesta assoluto che non sai mai quello che succede come una scatola di cioccolatini di Forrest Gump secondo me quello è proprio il punto di forza di Ayrston secondo me più si avvicina a Magic più diventa simile a Magic più perde il suo valore perché se vuoi fare qualcosa veramente uguale a Magic perdi per forza su tutti i fronti perché Magic è inarrivabile sono 30 anni di gioco contro pochi anni di gioco di carte tra l'altro della Blizzard che non ha esperienza minimamente in questo campo se hai fatto videogame quindi no in realtà sono due giochi bellissimi ma profondamente diversi una volta che però decidi di entrare in Magic e farlo seriamente proprio non hai neanche il tempo di giocare ad altro altri giochi di carte però mi distrarrebbero e poi io sono anche un po' così appunto ho una memoria un po' di merda incomincierei a disimparare tipo le cose in Magic imparare su Ayrston non riesco a imparare due giochi simili diciamo in maniera parallela un gioco completamente diverso invece lo posso fare tipo Battleground l'ho ripreso da poco bellissimo anche io ho notato questa difficoltà vabbè che io poi dopo quando Ayrston lo abbandonai ritornai su Magic allora il mio è stato un intervallo di pochi anni quello in cui ho abbandonato Magic però nel senso quello che volevo spingerti a dire è che secondo me se vogliamo fare un paragone tra Magic e Ayrston un unico paragone non per metterli sullo stesso piano ma proprio una situazione che è palese è che Ayrston come gioco di carte è molto diverso molto più semplice se vogliamo beh sì ma è proprio questa la sua fortuna la sua semplicità però chi gioca a Magic nota questa differenza cioè una persona che parte senza conoscere nessuno dei due giochi magari dice Magic è molto complicato invece è così no ma ecco quello che dico io è non deve essere per forza un malus questa cosa che sia più semplice cioè è come quando hai voglia di vedere un film un giorno hai voglia di vedere un film di Bergman l'altro giorno hai voglia di vedere Natale sul cazzo bello cioè capito bellissimo Natale sul cazzo l'ho visto ieri capito cale cosa ci sta è un capolavoro dipende dal mood no no assolutamente ci sta però tu hai appena detto che sei tornato su Magic e non l'hai più abbandonato quindi vuol dire sì sì perché io allora per un giocatore di video giochi o di giochi online o così è un discorso diverso ma per un giocatore di carte diciamo che Magic è la Ferrari cioè tu non puoi anche di farti un giro sul Mercedes non sto dicendo che è la Smart hai voglia ogni tanto di farti un giro sulla Maserati sul Keyenne però è un dubbio come bellezza proprio come fascino Magic è inarrivabile assolutamente inarrivabile è un giochino ispirato da Magic che ha avuto successo perché molto simile ma allo stesso tempo molto diverso e molto semplificato e questo lo ha reso un successore mondiale cioè il gioco che ha fatto volere di Blizzard nella storia prima Blizzard con la sua politica di volere entrare in tutte le modalità di gioco che ha fatto il MOBA ha fatto il MOBA fallito ha fatto tutto ha voluto fare anche il gioco di carte gli è riuscito però non l'ha fatto nessuno però ancora è iniziato ha lanciato il trend dei giochi di carte digitale sono poi le Blizzard non è che sono gli ultimi arrivati però anche loro con il loro studio diciamo non sono riusciti nemmeno ad avvicinarsi secondo me adesso senza voler per forza essere troppo critici hanno fatto un bel gioco di carte forse uno dei più belli nati solo online però non ci può stare come no vabbè ma infatti diciamo che i problemi adesso soprattutto ora che ci sono un sacco di competitor prima non c'erano intanto erano da soli non avevano avversari quindi hanno fasciato tutto hanno dominato le scene anche perché si poteva giocare pure su smartphone questo è stato un grande successo il fatto di farlo uscire per mobile si spera anche per Arena sì sì vabbè Arena poi vedremo eh si spera secondo me sarà ridicolo è dura io lo farò una partita anzi lo farò una volta per provare o hai un tablet tipo così no ma il discorso non è tanto di di noi cioè noi continueremo a giocare a Arena come se sempre giocato ad Arena sul computer il discorso è che mobile porta più gente ma io non lo so se poi alla fine porterà più gente sì perché tizio bau sono aspetti qualitativamente uguali ad Arston no tizio bau che non conosce neanche magic semplicemente vedrà magic sull'app store e lo proverà sì lo proverà si romperà il cazzo dopo 5 secondi ci sarà uno che su tre che si romperà il cazzo uno che resta secondo me sì è possibile è possibile ma se tipo a proposito allora tu parti da magic lo riprendi poi tu dici dicevi che devi rimpararti tutto no sì poi ti ritrovi così all'interno di Arena che non riesci più a guarire e adesso ti trovi a giocare anche a livello competitivo sì quindi io volevo farti una domanda su questo che credo che possa interessare diverse persone in chat cioè alcuni consigli alcune tracce secondo la tua esperienza secondo il tuo parere su cosa si deve fare per affrontare a livello competitivo cioè il giocatore che dice cazzo a me piacerebbe cercare di diventare bravo a questo gioco cosa devo fare quante ore servono cosa devo montare a cosa devo stare attento allora io non è che sono un campione del mondo quindi nel senso non è che posso dire devi fare questo questo e questo perché ho vinto il mondiale no però guarda ti dico io questa domanda la faccio a te perché credo che abbia più valore la storia di chi è partito proprio da zero non quello che prende le carte in mano scopre ad avere il talento alla maradona col pallone tra i piedi e gli riesce di arrivare al meeting championship una persona che dice cazzo io ho dovuto rimpararmi tutto ho dovuto ricapire va beh sì le regole sono tante Jack come si fa a fare 7-0 e poi 0-3 eh non è facile male tra l'altro ho fatto più volte la scuola del dito nella piaga sta citando l'ultimo qualifier ma non so credo che alla fine se ce l'hai dentro questa cosa non c'è bisogno neanche di tanti consigli nel senso sei la passione sei competitivo di natura io sono sia appassionato di giochi di carte da sempre da quando sono bambino non lo so un amore così a caso senza un motivo specifico ho sempre avuto questo questo trasporto per i giochi di carte e sono sempre stato anche abbastanza competitivo ho sempre avuto questa vena la chat gliel'ha rigirata al demo sì sì infatti ho detto io ho fatto di peggio non erano dissing no si perde più che si vince si perde e si vince peraltro voglio dire che perza bisogna accogliere la sconfitta va detto anche perza e vinza nato tutto da Heroes of the Storm ecco questa è una bella cosa che dici bisogna accogliere anche la sconfitta assolutamente fa parte cioè è purificatrice è catartica è avere più vittorie che sconfitta magica cioè no è impossibile soprattutto all'inizio cioè perdi e riperdi e straperdi vinci tutti i tonali vuol dire che o sei veramente una persona c'è qualcosa che non va no comunque se si può dare un consiglio dico alla fine fondamentalmente bisogna giocare un botto alla fine sempre questi sono i consigli per qualsiasi disciplina che sia un gioco di carte che sia uno sport che sia un e-sport alla fine è sempre quello è tanto tanto allenamento tenersi tanto informati conoscere tutte le decklist in giro per il mondo essere proprio concentrarsi tanto tanto tante ore quasi la vita proprio è così difficile che veramente devi fare solo quello ti devi allenare e non basta neanche giocare solo su TG Arena la cosa migliore è avere un gruppo di testing e testare con un'altra persona con altre persone che hanno la tua stessa identica voglia la tua stessa identica passione per prepararsi poi a un torneo e per riuscire ma allora noi che diciamo siamo appassionati di questo gioco da diciamo lunga data chi più chi meno comunque lunga data per tutti lo capiamo una cosa del genere un discorso del genere lo capiamo secondo te un ragazzo che adesso abbiamo appena affrontato il discorso del mobile che secondo me il mobile è una cosa che fa avvicinare tutti indiscriminatamente perché è sul telefono e quindi la gente se lo scarica come dici te lo va a vedere vede che è una roba impossibile da giocare perché per una persona che inizia è veramente un gioco difficile non è una cazzatina cioè tu come pensi che la veda un ragazzo una persona non avvicinata a questo gioco che vada a impattare con Magic confronto a un qualsiasi altro gioco secondo te è closer come secondo me l'impatto è un po' difficile è uno sparatutto non è un MOBA non è LOL l'impatto con Magic Diablo sì ma un gioco di carte ecco Liana di Massimo è un gioco di carte credo sia meno attraente di un FPS un Call of Duty un Fortnite di un League of Legends in generale è meno attraente infatti si vedono i numeri su Twitch sono completamente diversi Hearthstone ha avuto successo proprio perché è un gioco di carte ma più che un gioco di carte è un videogioco di carte ecco ci sono componenti proprio da videogame in Hearthstone cioè ci sono delle cose se tu non può esistere il cartaceo di Hearthstone ci sono alcune cose che sono completamente irreplicabili il cartaceo c'è chi ci ha provato a fare il board game la merda è impossibile capito no ma non si può fare proprio meccanicamente no no è possibile succedono delle cose che non puoi replicare proprio fattivamente nel gioco di carte nel cartaceo cioè fammi il cartaceo di Evolve esatto come fai c'hai capito l'esempio è perfetto eh esatto e ce ne sono altri miliardi di cose che è impossibile da replicare un gioco di carte quindi ha già una marcia in meno sai cosa ora non c'entra è un off topic mostruoso ma siccome il pool delle carte è ben definito nonostante sarebbe veramente difficile sa se potrebbe essere fattibile una versione cartacea tipo un tavolo di amici di battlegrounds si ma la vera domanda è è perché certo si no ma ora vabbè ho detto una cosa soprattutto adesso che hanno messo la possibilità era per dire era per dire mentalmente sai che sarebbe fattibile però nel senso giocate a battlegrounds dovete giocare a battlegrounds c'è abbiamo bisogno già battle è bello si ci giochiamo ci giochiamo sia su smartphone che su pc ci giochiamo possiamo giocare in otto si possono fare adesso i party ma io sta guarda che stavo accarezzando l'idea di mettermi molto di più su battlegrounds perché adesso ci saranno i tornei di battlegrounds ci sarà il competitive di battlegrounds questo è una figata io sto riprendendo la mano piano piano vaga allora adesso mi sono rotto il cazzo di fare finta di niente che mica è sto battlegrounds ma porra scusi signor Delmo lei non istruisce i suoi colleghi colpa di te bello mi piace cazzo mi piace svestiamoci da questa cosa dell'onniscienza dell'intervistatore io non so di cui cazzo state parlando battleground è un auto chess mi hai sentito auto chess gli auto chess ok che sono quelli usciti su quello di di lol non mi ricordo di cos'altro di artifact mi sembra e niente insomma è un auto chess della blizzard è il giochino auto chess che trovi all'interno del client di arston che sta avendo molto più successo di arston in questo momento è tipo un formato io voglio l'auto chess di magic come scusa non ho capito è tipo un formato diverso di gioco no è un auto chess l'auto chess è proprio una tipologia di gioco come c'è il MOBA come c'è l'FPS come c'è l'MMO l'auto chess in pratica è una sorta di scacchiera dove i combattimenti avvengono in maniera automatica tutto ciò che tu devi fare è la gestione diciamo economica e le scelte di quali pezzi schierare turno per turno da turno per turno tu hai delle monete hai delle risorse da disposizione delle monete o come cristalli di mana per arson o come il mana per magic ogni turno puoi spendere x di queste monete per comprare vendere servitori quindi mostri creature chiamali come vuoi e poi schierarli ok poi beccherai un avversario casuale e la fase di combattimento avviene in maniera automatica cioè gli attacchi sono tipo casuali per questo si chiama auto chess auto chess perché perché è una scacchiera automatica tu l'unica cosa che devi fare è schierare i pezzi decidere quali comprare schierarli e poi il combattimento avviene in automatico è molto direttante e come mai sta avendo più successo del gioco di carte perché sono quei giochini che vanno molto anche io ne ho gioco ad alcuni sul cellulare vanno molto sul cellulare sono degli automatismi tu trovi le carte le schiere poi in base alla tua squadra combatti contro un altro che ha delle altre carte e si vede come va a finire senza interazione è come se tu decidi a me facciamo un esempio stupido io voglio partire con Wurring in gioco Crocs in gioco e Nissa in gioco e l'altro mette la sua squadra e ci mette niente no altre tre carte fortissime e poi si vede in base alla randomizzazione chi è che vince ma sì ma non c'è interazione comunque è molto strategico il gioco c'è tutta la fase pre-combattimento e tutta strategica non è nella partita è prima è come la differenza è come fare non lo so una partita a FIFA 2000 oppure a un gioco manageriale è un football manager è un gestione manager a seconda di come schieri la squadra sì ok ok no Airstone l'ho scaricato agli inizi perché era gioco di carte avevo la voglia delle carte tutto però non ha attecchito su di me tanto Airstone ma no è bello anche perché comunque la Blizzard fa fatica veramente il pregio della Wizard è di fare no la Wizard la Blizzard fa fatica a fare un prodotto che non è accattivante cioè tutte le volte ti mette delle robe perché dici cazzo che è figata giocare in questa maniera qua è andato a prendere dei personaggi strafighi è andato a prendere dei personaggi cosa sta facendo il Delmo sto intrattenendo la chat mentre vi spiegate Battleground Delmo fai gli squat anche tu peraltro Jack tu mi hai detto quando hai avuto la pausa di Magic ti sei dato al poker sì sì voglio chiederti questa cosa sì ci sono un sacco di giocatori anche nel passato che ho conosciuto che hanno interrotto Magic e sono passati tutti al poker sì era la moda del momento ma qual è il nesso secondo te come mai da Magic si va a poker cioè perché vanno tutti a giocare a poker è sempre un gioco ma perché comunque è un gioco poi ti lascio dire a me una volta mi hanno detto addirittura un ragazzo che aveva fatto questo passaggio e mi disse e pensa che nel poker mediamente i giocatori che vengono da Magic sono quasi sempre tra i giocatori più forti sì sì certo ma perché hanno un'attitudine hanno un'attitudine ai giochi di carte e in generale ai giochi di strategia cioè Magic è un gioco di strategia anche il poker è un gioco di grande strategia per quanto la gente possa pensare che sia Magic che ci vuole il culo di non fare scru di non fare flut di pescare bene il poker se ti esce l'asso ice on the river sei morto sempre le solite cose in realtà c'è una grandissima strategia dietro entrambi i giochi e quindi alla fine tutti i giocatori di carte sono appassionati di giochi di strategia dove conta solo l'intelletto non conta la forza brutta oppure qualsiasi altra cosa insomma conta solo ed esclusivamente la propria psiche e il poker era la moda del momento il gioco era effettivamente bellissimo io non lo conoscevo sinceramente non conoscevo il poker Texas Hold'em conoscevo il vecchio poker quello classico che oggettivamente non mi ha poco attratto solo attraverso i film Texas Hold'em poi esplosa questa moda mi sono appassionato tantissimo attraverso le trasmissioni di Poker 1 Mania con Ciccio Alenti e Luca con Mania bellissimo adoro adoro fanboy mi sono appassionato così tanto che poi ho scaricato anche io una piattaforma online per giocare a poker anche dal vivo giocavo ovviamente anche dal vivo e poi ho iniziato ad approfondire sempre di più perché volevo diventare un giocatore insomma volevo diventare un giocatore professionista è diventato pro di poker ma anche tanti altri ma Tammy Rice non te lo ricordi vabbè è un giocatore no non me lo ricordo è di Ferrara anche lui che poi era di Coman comunque noi noi tendiamo adesso questa cosa qua volevo dire prima la dico adesso noi tendiamo sempre a e questo lo fanno tutti lo faccio anch'io a dire che Magic è un gioco di carte e lo paragoniamo ad altri giochi di carte in realtà a mio avviso è sempre stato così poi dopo spero di non tirarmi troppe nomacce attorno Magic non è solo un gioco di carte cioè Magic è troppo riduttivo Magic è amicizia no no cioè nel senso se tu vai a paragonare Magic a Airstone come a poker come a qualsiasi altro gioco di carte collezionabili è vero sì dal punto di vista letterale però non è la stessa cosa cioè non puoi paragonare Pokemon Yu-Gi-Oh o Airstone o il poker a Magic cioè secondo me è un'altra cosa è una versione più complessa di tutti quelli cioè alla fine allora tutti questi altri giochi che hai nominato sono tutti giochi che esistono grazie a Magic Magic nasce e poi ci sono le varie diciamo copie diversificate che differiscono comunque anche tanto però alla fine la base è sempre Magic è normale che il padre putrativo di tutti i giochi di carte collezionabili esistenti nel mondo che alla fine sia quello più affascinante non è più perfetto perché comunque c'è un sacco di difetti pure Magic che si porta dietro perché è comunque tutti i difetti pregi e difetti di un gioco che esiste da 30 anni infatti nel tempo è stato anche modificato nelle regole e ancora sicuramente verrà modificato dicevi Delmo non ho sentito niente è molto carino anche Shadowverse però non se lo caga nessuno perché ha la grafica anime però è molto bellino il gioco di carte l'avevo visto però sì non l'ho mai scaricato soffre del problema che aveva Duelist con la grafica troppo a cazzo di cane ha perso utenza perché tu entri su Shadowverse e vedi draghi e fighe anime con le puppone per colpa della grafica viene snobbato ma ti assicuro è un gran bel gioco di carte lore tipo io ci sto giochicchiando sai proprio a perdi tempo dico per una terra dico se è fantastico meglio non è fantastico te lo dico io da giocatore di magic quanto te non è fantastico è uno svuota cervello cioè te te giocatore di magic giochi a lore bendato cagando addirittura no nel senso io mi rendo conto ho visto anche ad alti livelli perché poi ad alti livelli è tutto difficile alto livello è tutto difficile però io ho guardato i gameplay di alto livello di lore e lo skill cap è alto ma non è magic ragazzi cioè non è magic ma guarda che tutti parliamoci chiaro magic è il gioco di arte più difficile in assoluto non c'è non c'è niente di nemmeno lontanamente paragonabile quindi signori siamo qui per fare i segoni a due mani a magic no ma non è questione di segoni no io volevo smettere di parlare io sto aspettando che finiate per parlare di completamente tutt'altro no guarda ovviamente io sono il primo che faccio le seghe si parla sempre di quelle cose lì e si dicono sempre le stesse cose però come esperienza personale i ragazzi con cui abbiamo parlato noi con cui ho interagito io che si sono spostati al poker vincendo anche molti più soldi perché si sono pagati case si sono pagati auto si sono pagati viaggi giocando a poker o giocando anche a Airston o altri giochi così e che sono venuti da un passato di magic soprattutto col poker perché poker ha più soldi in ballo diciamo hanno tutti detto e qua non scherzo non sono mille ma sono quei 10 15 20 persone che avevano un passato come veramente bravi pro player di magic che si sono passati al poker e hanno detto tutti tutti è più facile cioè è più facile giocare a poker per uno che è abituato a giocare a magic è come proprio dal punto di vista mentale delle probabilità è più facile rapportarsi a un gioco formato da 52 carte anche se lo stress di giocarsi di giocarsi mille duemila cinquemila euro alla volta è diverso però è più facile rapportarsi matematicamente a un gioco come il poker piuttosto che un gioco come magic e comunque un'altra cosa cioè secondo me anche il giocatore forte di poker che poi impara magic è più forte a magic rispetto a uno che gioca solo a magic perché comunque tutti i giochi tutti questi giochi ogni gioco ha la sua peculiarità la peculiarità più grande del poker è il calcolo delle percentuali penso nello specifico come sua caratteristica proprio che spicca ad esempio ti porta magari a calcolare le percentuali in magic che è un giocatore di magic lo sai chi è anche forte a giocare a magic se viene da un altro gioco scacchi scacchi pure perché sono tutti i giochi ti aprono la mente in direzioni diverse quindi se li giochi tutti poi sei più forte a ciascuno di loro è il principio del jet kundo magic è il jet kundo il jet kundo l'ha creato Bruce Lee unendo il meglio della box il meglio del karate il meglio della scherma il meglio del magic il meglio di tutto se stessi fare tutto sai giocare a magic 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 è il jet kundo dei giochi di carte cazzo si sta annegando con le inele dite a con le inele di smettere di bere dai Delmo dacci la spallata fuori pista dai dai dacci dici volevi parlare di tutt'altro vabbè ma Jack è andato a a bacheca ero andato nel mio frigo frigo vieno di redbull aspetta ah ho visto che ti è arrivato ti è arrivato il cassone dello sponsor se domani morisse magia cosa streameresti? sarebbe un guaio incredibile per fortuna non succederà mai questa cosa ma tipo te diventeresti un altro giocatore di un altro gioco fisso o proveresti il variety o proveresti il just chatting allora penso che mixerei no giocherei sempre a un gioco di carte penso che mixerei allora inizierei rune terra subito ma battlegrounds fisso non lo faresti mai? si pure magari battleground rune terra però poi mi fisserei su uno perché mi conosco mi fisserei poi su uno dei due e porterei quello e invece non hai mai pensato come vabbè io parlo perché ti conosco nel senso tipo questa è una domanda che magari Goli o Berro non ti potrebbero mai fare io te la faccio specifica perché ti conosco da anni sapendo quanto ti piace comunque il l'aspetto oratoriale di Twitch l'aspetto di divulgazione di mettere faccia e parole come protagonista dello stream oltre al gameplay e come col casting ho capito niente perché mi sono perso è che cazzo dico tre parole più difficili a livello lessicale mi muori allora parlo come mangi perché nemmeno me mangio io parlo come mangi te no no ripeti non lo senti allora siccome ti garba metterci la faccia è quello che pensi su Twitch oltre al gameplay non hai mai pensato anche a provare non ti è mai venuto per la testa di dire voglio fare anche just chatting approfondimento attualità non lo faccio just chatting c'è tian che dice domani muore magic invece di buttarmi su un altro gioco buttarmi esatto cioè buttarti sull'aspetto massimiliano sacco live oltre a quello che fai ma io ho preso di portarlo tanto questo aspetto in live però sempre affiancato con un videogame con un gioco cioè che lo porto porto tanto me stesso io sono io praticamente appunto sono io all'ennesima potenza non ti sentiresti è il luogo dove riesco a esprimermi meglio non ti sentiresti in grado di portare solo te stesso e fare quello senza accompagnarlo con altro non so non so se sono così interessante da essere seguito solo per la mia persona insomma non lo so cioè è difficile come cosa di solito comunque ogni influencer ha la sua il suo campo ogni content creator ha il suo luogo il luogo hai visto non so se conosci penso di sì comunque l'evoluzione ha fatto Ivan Grieco come streamer poco praticamente Ivan Grieco si è affermato come ha fatto un po' di tutto e si è affermato adesso fa a parte vabbè il ban ultimo che ha ricevuto tutto il resto ora sta tornando Ivan Grieco si è affermato come programma di intra di come si chiama c'è la parola giusta l'intrattenimento informativo cioè Ivan Grieco è un canale di informazione praticamente ok io invece di andarmi a leggere Lanza mi guardo Ivan Grieco praticamente siccome ti ho visto molto a volte fare queste cose cioè te tipo su una live di magic mi inizi una live di magic mi inizi la live di magic 45 minuti parlando di attualità capito te ti ci l'infotainment esatto è brutta la parola però rende te ti ci vedresti a fare una cosa del genere cioè di fare tutta la live parlando di attualità sì potrei farlo potrei farlo il fatto è che non è detto che mi vada di fare questa cosa tutti i giorni ok ok cioè quando ti guarda quando hai il cazzoritto di parlare di cose che vuoi parlare è una cosa che faccio spesso mi piace mi diverte soprattutto esprimermi mi piace esprimere e allora cosa ne pensi della situazione attuale delle scelte governative in risposta alla situazione pandemica no ecco c'è lì che rottura di coglioni incredibile ma io posso dire posso dire solo questo guarda che questa cosa è nuova la pandemia è una cosa nuova e nessuno sa veramente che cazzo fare non è che il mondo ha agito tutto nella stessa maniera ognuno ha fatto il cazzo suo c'è chi ha chiuso tutto per sempre tipo l'argentina c'è chi ha perso sempre tutto come la svezia c'è chi ha fatto singhiozzo come noi vai a leggere le notizie di ognuno di questi paesi sono tutti col cazzo girato qualsiasi sia stata la scelta ok quindi come ti muovi ti muovi pesti la merda con questa pandemia perché è una fottutissima pandemia mondiale e quindi il presidente del consiglio massimiliano sacco che farebbe non farei il presidente del consiglio mi dimetterei subito povero conte conte a tutta la mia solidarietà in questo momento mi dispiace un sacco per lui penso sia stato il presidente del consiglio più sfigato della storia io li voglio bene li voglio bene mi fa tenerezza si pure io poi ho gran figo a parte che è un bellissimo a parte già a prendere delle decisioni in questo momento deve essere una difficoltà assoluta deve essere due ma non i grossi sì tanta gente colpevolizza ma il delega a Giannetto dammi una museruola Giannetto ministro della difesa chiaramente del governo sacco governo sacco Giannetto ministro della difesa e dell'istruzione non usarmi la parola governo che qui abbiamo una molotov che esploda no no mi dissocio ministro ministro della sessualità guarda il cartellone guarda il cartellone non fare bannare non dire quelle cose c'è il cartellone non far bannare Delmo per ricordartelo bravo bravissimo con la tua faccia tipo gattino bagnato che piange io guardo la tua faccia con tipo e dico no vabbè sto sito perché così Delmo non viene bannato invece l'impatto l'impatto su gaming com'è l'impatto su gaming che vuol dire l'impatto sul gaming pandemico allora in relativa a cosa in relativa alla pandemia si tutti devono stare chiusi in casa tutti vengono su internet community ci arricchiamo beh bene bene benissimo perché l'unica cosa che veramente non ci è stata vietata scopare non si può più scopare se non sei accomunato state sottovalutando il sesso per telefono come Giannette ci sono delle difficoltà sì difficoltà irriarginabili arginabili sì e no se ti attieni alle regole ben poche cioè non potresti si va con il piccone adesso sì quello anche prima non è quello il problema personalmente nei miei contatti di Instagram non ho mai visto così tante ragazze incinti negli ultimi sei mesi quindi qualcosa secondo me qualcosa è accaduto a meno che l'arcangelo Gabriele non sia arrivato a tutti i cantoni qualcosa è successo qualcosa sarà avvenuto comunque il mondo dei videogiochi ovviamente è stato intoccato credo del tutto continuano a sfornare i videogame e la gente continua a comprarli anzi forse addirittura c'è stato un incremento soprattutto nel mondo dell'intrattenimento legato al videogame quindi tutto ciò che ha a che fare con YouTube Twitch tutti questi medium che non sono stati toccati anzi probabilmente sono stati potenziati dalla pandemia quindi insomma non tutti i mali vengono per mali tutti i Mario vengono per cuocere quali saranno le prospettive quando riapriranno le gabbie chiama per strada con l'assa Twitch non lo so non cambierà niente saremo anzi saremo tutti più buoni le persone regaleranno i soldi alle altre persone saremo solo delle cenate delle fiorentinate da mezza Italia no e se invece Jack proprio non solo prima ti ho fatto l'esempio se morisse magia cosa streameresti se morisse Twitch male male un'altra piattaforma di streaming troverei no no se tu non potessi streammare quale sarebbe il tuo piano B malissimo malissimo sarebbe da pensare cioè ma intanto ora non è per farti conti in tasca ma in questo momento stai facendo altro oltre allo streaming no no non sto facendo un cazzo oltre allo streaming no no sto facendo solo esclusivamente lo streaming tutto quello che gira attorno diciamo quindi che ne so prima una volta quando si poteva fare magari mi invitavano nelle fiere adesso funzionizzazioni casting si o Red Bull mi chiama e commento i tornei quindi insomma diciamo attività remunerative limitrofe se ne scaturiscono tante ok tutto quello che fai adesso toglilo piano B suicidio no mi dissocio mi dissocio ragazzo Berro era stato buono tutta la sera mi dissocio chiaramente da ogni forma di intenzione dall'autorisonismo vabbè attraverso la difesa una nuova no davvero cioè prima di streammare cosa volevi fare o cosa stavi provando a fare o cosa hai fatto l'usciere no davvero massi porca puttana serio non posso fare l'usciere no non esiste no mi sono spaventata la propria vita allora io mi sono spaventata mi sono spaventata la disperazione lo stai uccidendo è la prima volta che il tribale bestie si trova una testa in difficoltà e mi sono spaccato gli occhiali sulla faccia per riuscire a fare di uscire questa tua attività di uscire no di uscire di uscire di uscire no con tutta questa attività che hai ti ha sviato la domanda il merda comunque no rispondo ti metti di rompere gli occhiali ti la sto riappoggiando te lo vengo in tuo soccorso come li riappoggia no no ma rispondo cioè che ripercussioni ha la so sulla tua vita sociale reale cosa twitch che ripercussioni ha tutta la tua attività streaming ma allora io non è che sono mai stato una persona socievolissima la domanda jack in tutte le varie questa è una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti i nostri ospiti cioè inerentemente al mondo nerd no nerd che si isola e si margina per stare attaccati ai videogiochi per stare in internet per fare queste robe no e che non ha la vita sociale eccetera eccetera bla 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 tu questo aspetto tu che hai appena detto che hai come diciamo fulcro della tua attività lavorativa lo streaming che come che impatto hai cioè tu ti senti un nerd ti senti un immaginabile le persone che ti vivono intorno come la vibra no mi chiamassi è come noi proprio un lavoro vero quelle robe lì oppure no vabbè quelli sono i boomer se ne frega li prendo per il cuore no se ne frega un cazzo ma io mi fanno per giocare ma io ti dico la verità io mi sento privilegiato rispetto cioè fondamentalmente sì perché comunque intanto intanto conosco molte più persone stando a casa seduto sulla sedia perché oggettivamente con internet siamo connessi con tutto il mondo posso giocare contro chiunque un avversario che non avrei mai incontrato nella mia vita di magic lo posso incontrare grazie a internet best invenzione EU a parte questo conosco un sacco di persone molte più giornalmente stando seduto qui su una sedia che uscendo fuori di casa molte più persone interessanti soprattutto perché interessanti per me è vero perché comunque abbiamo interessi in comune con le persone una persona X per strada il 99% delle volte è una persona che non c'è tra un cazzo con me è vero ma se no me non esclude uno l'altro nel senso io la penso come tema senza escludere l'altro cioè io ormai sapete la mia vita ora a parte c'è la pandemia facciamo finta che è il 2019 cioè la mia vita è la nerdaggine e il movidaro io sono completamente da tutte e due le spot cioè io conosco X persone interessanti fuori e X persone interessanti io non sono un grande amante delle discoteche dei villaggi turistici no assolutamente no preferisco fare la serata con i pochi amici che mi piacciono mangiarci qualcosa insieme guardarci un film io non disdegno entrambi le cose come? io non disdegno cioè non è che non esclude l'altra a me mi garba la serata nerd tra amici in casa e la serata cuore a me la serata troppo mondana non è mai piaciuta in generale perché tendono a starmi sul cazzo le persone e quindi è troppo randomico uscire capito incontrare persone è troppo random qua te le pseudo scegli anzi loro scelgono te loro scelgono te esatto e in qualche modo anche tu quindi scegli loro perché le persone sono simili a te come? niente facevo il coglione come sempre non ho capito facevo il cretino come sempre tutto regolare tutto regolare continuo a abbassarmi il microfono a me non capisco come mai va bene comunque tanto magic non muore twitch non muore se succede qualcosa verranno sostituite da altre valevoli alternative io le poche volte in cui non ho avuto un gioco tornando a quello che avevi detto prima che tu sei molto monomarca le poche volte in cui non ho avuto qualcosa su un hobby una passione ludica sulla quale concentrarmi mi sono trovato prevalentemente spiazzato cioè devo avercelo il mio pallino smarrito smarrito un dodo e sbattere la testa quando non ho un'acqua tipo nel momento in cui ho smesso di giocare cartaccio che non sapevo che cazzo fare dopo un po' mi sono buttato su diablo e poi su altre cose ed è stata una roba impegnativa perché eravamo in canale su time no è importantissimo però qui non avevo niente da fare io mi sentivo un po' persino mi sentivo sì no è importante avere una passione nella vita qualsiasi essa sia sei appassionato di pareti di pareti arancioni i giri no ma per dire guardi per dire una stupidaggine nel momento in cui ero in fissa con odds e sono stato bannato per una settimana perché ho fatto il cretino in chat vedi del mondo grande odds può capitare niente è così è così non ce la fa non ce la fa ma a me mi si sente bene in chat perché ho fatto dei cambiamenti in cui io non sapevo a cosa giocare le ho provate tutte ho provato Neverwink ho provato addirittura Fortnite per tre giorni vi ringraziamo per questa puntata del Tribale Bestie me ne pergo purtroppo devo fare devo fare un annuncio purtroppo devo fare adesso un annuncio che Berru lascia ufficialmente stasera il Tribale Bestie è un momento di grande è stato un membro fondamentale è stato un membro interessante ma purtroppo da stasera Berru sarà ufficialmente sostituito da Jack Torrance mi dispiace ha sbagliato c'è chi con questo sbaglio è diventato sponsor ufficiale dell'Adidas tipo Power è sbagliato fino a un certo punto comunque ufficializziamo che Berru verrà sostituito da Jack Torrance perché Berru se ne va vincinato di parole con la F così ti sbattono fuori leggiamo i momenti il cartellone il cartellone no nel senso ho provato in un attimo in cui non avevo non sapevo cosa giocare prima di trovare qualcosa sul quale buttarmi cioè i momenti in cui non c'era niente che mi appassionava sono stati difficili cioè non è che poi c'è anche tutto il resto della vita reale capito non è che io non mi sono mai trovato in questa situazione ma io mai ho sempre avuto qualcosa che mi faceva impazzire di cui ho sempre concentrato tutte le mie energie c'è sempre stata qualcosa nella mia vita che mi ha assorbito del tutto c'è sempre stata io non so com'è vivere questa cosa mai provato di una situazione limite hai capito cioè non so se ti ricordi secondo me andiamo indietro dal 2014 insomma quando MTG Online si fermò con i server per una settimana per mettere a posto quella gabola sul fatto che la gente chiedeva refund staccando staccando il modem e facendosi ridare i soldi insomma fermarono MTG Online per una settimana tutti gli streamer di mezzo mondo si piegarono perché non potevano più portare a casa la pagnotta perché ricordiamo c'è gente che guadagnava in dollari però spendeva il pesos e ci faceva campare quattro famiglie con quei soldi ci fu insomma questo gap in un paio di settimane in cui si fermò la gente venne spiazzata da questa cosa perché non aveva più la piattaforma del proprio gioco preferito non sto parlando cioè tu hai appena avere più passioni è meglio nella vita perché almeno dici quando viene meno una c'è l'altra sì ok però la seconda è sempre meno meno io sono molto appassionato di cinema nel senso se per una settimana MTG Arena dovesse chiudere e non dovesse giocare a Magic per una settimana non morirei mi piace molto Magic ma mi ammazzo di film è un problema anzi io spesso faccio tardissimo perché poi stacco la live serale slash notturna e mi sparo un film vabbè Massi io sono anni che ti dico che la tua schedule di sonno è sbagliata a livello essere umano e lo so ti fai del male però vabbè insomma perché comunque dormo tanto lo stesso non dormo dormi ma dormi a cazzo di cane perdonatemi cioè dormiamo la mattina un corso di recupero serale per quelli che dicono sì ragazzi ho giocato a forno tutti seduti in circolo sono Luca e ho giocato a forno hanno detto è meglio il porno che forno e lo so ragazzi io mi apro come uomo anche io ho avuto le mie difficoltà nella vita insomma i tuoi momenti nessuno di voi ha mai sbagliato qualcosa tra l'altro il signor Miss in chat dice che la magia notturna ha il suo pubblico il pubblico che preferisce il problema di Jack non è che va a dormire tardi il problema di Jack che fa è che dorme il pomeriggio cioè la sua notte la sua notte è il pomeriggio dormo la mattina anch'io dormo la mattina ma perché tu cosa pensavi che dormissi ma io stiamo in canale fino alle 5 di mattina ma è che poi dopo alle 8 mi sveglio timpantissimo amico caro non è socialmente accettato dormire la mattina e qui Delmo ti sta puntando il dio no ma anch'io se non ho da fare un cazzo mi sveglio all'una però tipo Jack l'altro giorno ti ho chiamato e ti ho svegliato alle 3 ascolta Jack ma durante la tua attività di stream hai mai avuto delle rotture di coglioni quasi solo rotture di coglioni ma vogliamo parlare no 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 non ne parleremo ma tante tante sopravaguarda la maggior parte delle rotture di coglioni sono arrivate non dal pubblico ma da altri streamer un rapporto meraviglioso ma con i colleghi le maggiori rotture di coglioni da parte dei colleghi altri streamer si si ma dai si vabbè ma ne stiamo veramente parlando le persone belle che ho conosciuto io online veramente nell'ambito nell'ambito prettamente lavorativo si possono contare sulle dita di una mano sono persone straordinarie a me vuoi bene a me vuoi bene siamo amichetti si ti voglio bene ti voglio bene ho conosciuto delle persone meravigliose però la maggior parte di quelle che ho conosciuto è il diadolo le quinte si tende proprio è un luogo in cui non te la racconta l'eglissa ma come racconta ma dove eravate no ma non lo so è proprio un mondo fatto di invidio si punta solo esclusivamente ad annaffiare il proprio orticello si cerca si cerca di essere i migliori sdirupando il grattacielo di fronte non cercando di costruire più in alto dell'altro no cercando di abbattere non so devo dire la verità non una bella esperienza dal punto di vista della colleganza qualcosa si qualcosa si ecco fammi tipo per esempio tre nomi che stimi invece allora Meliador è una delle persone migliori che ho conosciuto nella mia vita è tipo è tipo superman comunque i tre nomi ti faccio uno spoiler i tre nomi dovevano essere Delmo Goleber no io escluso adesso ci dici il quarto Delmo arriva a quarto ma io escluso ma io escluso arriva a quarto e te siamo amici nemmeno ti reputo un collega dire Delmo sarebbe banale è come il di Giannetto non lo dirò perché anche fazioso è sgradevole per lo spettatore direi sicuramente Meliador Gianandrea ah ti piace come streamer come persona tantissimo siamo amici non ci sentiamo spesso però una persona splendida proprio una bella persona cristallina io l'ho conosciuto una sera ma eravamo tutte e due molto strappati quindi ci siamo conosciuti poco altruista sai com'è la gente se non sei almeno se non hai più follower se non sei pari di follower tendono magari a non cagarti ecco lui invece Gianandrea che è già un canale enorme è subito stato disponibilissimo con me insomma non pone i numeri prima della persona che è una cosa che avviene tantissimo in questo ambiente bello ma tantissimo e terzo tantissimo tantissimo c'è proprio questo concetto no che se io magari non lo so collaboro con te allora c'è la possibilità che i miei follower io perdo i miei follower e vadano da te non capiscono invece il gioco di squadra è assolutamente la cosa migliore da fare cosa che sta facendo un sacco si ordelmo cosa è questo gioco di squadra certo guarda che a me è arrivato adesso lo voglio citare perché se lo merita perché credo in quello che ha detto e mi ha mandato un messaggio in privato a Kira dicendomi che guarda che io quando ne parlavamo che ci stavamo mettendo d'accordo lui lo disse in una frase disse quelli che saranno nei tuoi follower magari una volta verranno da me quelli che guarderanno il vostro canale verranno da me quelli che guardano il mio verranno da voi e c'è un guadagno per tutti e sinceramente io cito cito il cerbero la gente che continua ad oggi a dire su Twitch quando fa le collaborazioni la gente che continua a dire no ma non lo faccio per i numeri ha rotto i coglioni tutto fa numero il bello è unire cose che fai volentieri con persone con cui fai volentieri ma che fanno comodo tutto fa è ipocrita dire no 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 non invito Jack al tribale podcast per avere la sua chat è ovvio è scontato però lo fai volentieri perché nel senso a me non ho toccato i buonismi no certo si critica nel momento in cui magari quello lo fa solo ed esclusivamente per quello io critico chi fa finta magari ci odiamo ma ci invidiamo io critico chi fa finta di di stassi simpatico quello sì 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 no nel senso ma io però non ce la farei allora per me la live è una cosa che mi deve far stare bene cioè è veramente una delle cose più importanti della mia vita quello che ho creato la community la gold room che è la mia seconda famiglia che è tutta la community che mi segue che mi supporta da tempo cioè questo è il momento uno dei momenti ovunque il momento più felice della giornata io non me lo posso rovinare per i numeri non me ne frega un cazzo io invito nella mia live gente che mi fa stare bene non me ne frega un cazzo quanti follower ha quanti da certo se sei pure lo streamer più seguito del mondo mi fa una grande contestiva perché mi pusci esatto vedi questa cosa ha scritto Andrea Costantino in chat mi piace un casino tipo che Costantino ha conosciuto me da zio Garbe e voi tre da me certo è un è così è bello secondo me è bello no no assolutamente fighissima sta cosa penso che noi col fatto che lo facciamo da pagliacci perché col fatto che non abbiamo nient'altro da fare ci divertiamo anche a fare queste cose non ci stiamo ponendo adesso nei confronti di una chat di una community di persone che ci seguono e tutto quanto che parla solo di figa da voi noi parliamo di figa allora noi l'abbiamo già detto in altre volte noi facciamo questa cosa qua perché ci divertiamo tra noi due parliamo di me parliamo di figa con quelli che vogliono ascoltare di stronzati di qualsiasi cosa e basta non avevamo mai pensato di avere così e quindi per noi parlo anche per te nel senso per noi no ma certo sai che è una cosa un po' cioè è un mondo un po' nuovo avere a che fare con questo genere di discorsi io me lo me lo potevo immaginare perché essendo comunque stato in un ambiente competitivo nei giochi sia online che in real queste cose succedono però sì non non era un pensiero che che mi ponevo all'inizio no io allora facciamoci per quanto riguarda me io devo dire che quando ho iniziato l'avventura dello streaming l'avevo iniziata con molta tranquillità ma ero partito preventivando che non sarebbe stato un bel mondo cioè mi aspettavo una roba più tossica e invece alla fine ho visto che trovi anche le persone con cui fai bene le cose quando comunque goli ti fermo lo sai perché lo sai perché noi stiamo bene anche quel tipo di persone lo sai perché la community nostra mia vostra anche jack comunque tecnicamente ora nessuno si offenda ma anche garbe anche gente che fa molto più numeri di noi comunque siamo piccoli twitch è bello finché siamo piccoli quando diventi grande aumentano i soldi ma aumenta la merda aumenta la merda aumentano i nemici aumentano gli occhi addosso ma come no no la guerra tra poveri c'è c'è la guerra tra poveri che è la cosa più vista del mondo dai per me c'è molta più guerra tra grossi per me c'è molto scusami è chi ha fame che si scanna ma non è vero perché non c'è no invece noi come community di piccoli magic io e te che siamo amici per cazzi nostri no in generale però fidati che non è soltanto non è vero che finché siamo pochi è tutto bello rosa e fiori perché non è vero e lo sappiamo ah vabbè sì però è tal sicuro perché io conosco conosco molto conosco molto intimamente ma anche te gente con grossi grossi numeri che dicono vabbè quando c'hai dall'ETA con canali grossi è grossa cioè la roba è parte l'avvocati ma l'avvocati partono sì l'avvocati partono comunque vabbè ho sbagliato ho sbagliato esempio ok perché partono pure se una cosa succede sotto banco anche se succede a casa mia con una persona può partire l'avvocato non c'entra poi l'ampiezza diciamo mediatica la risonanza mediatica ma dipende anche un po' secondo me da come ti sai mettere l'impermeabile addosso no cioè anche se tu diventassi grande iniziasse ad avere i numeri pesanti sì però c'è sti cazzi voglio dire se tu entri nel mio canale mi fai letter mi accusi di essere mi offendi perché secondo te non sono questo non sono l'altro sti cazzi c'è solo gente ad andare a vedere ma vai a vedere gli altri cioè non succede comunque se il tizio è grande e tu sei piccolo non viene mai a scriverti perché ti darebbe soltanto visibilità a caso cioè non è una cosa che succede spessissimo no la guerra mista non esiste cioè la guerra se è è tra piccolo con piccolo grande con grande sì in teoria sì cioè magari poi ci sono i piccoli che magari cercano di fare la guerra ai grandi per ottenere visibilità vabbè ma qua stiamo proprio e fanno figure di merda sul peggio del peggio possibile io direi sul peggio del peggio secondo me si è fatta una certa ma si è fatta una certa Jack vuoi dire qualcosa una frase instauriamo adesso il meme di chiusura Jack una frase per chiudere il podcast una frase qualsiasi una frase il tuo aforisma un aforisma Ezechiele 25-17 il cammino dell'uomo timorato e minacciato dagli iniquità dagli esseri egoisti dagli uomini malvagi benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre perché egli è il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti Magna prendi il mio portafoglio dalla busta e quello che ho scritto bad motherfucker ragazzuoli l'appuntamento è quindi Jack tipo adesso di nuovo sul tuo canale penso di sì perché è presto di solito a quest'ora mi sveglio eh no nel senso se vuoi devi tipo startare adesso adesso fai partire la live e io ti un po' di magia notturna e qua c'è la gente che vuole la magia notturna mi pare dai mi faccia partire facci partire il canalo facci facci inizio streaming mi pare volete la magia notturna la volete o volete la volete facciamo decidere a loro mentre Jack mentre Jack si decide a premere il tasto avvia streaming Jack prima diceva che ognuno guarda fare a pisciare nel proprio orticello per farlo diventare più verde e noi una spruzzatina avremo anche l'orticello come i cagnassi no nel senso che comunque quando Delmo ci porterà qualcosa di più da spruzzare addosso eccolo 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 oddio berru cane caro cioè guarda che serve un set di bavagli no mercoledì prossimo lo leghi mercoledì prossimo lo leghi perché mercoledì prossimo dai lasciamo la bomba mentre Jack fa partire il canale mercoledì prossimo la lasciamo piano 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 mercoledì prossimo il tribale bestie si tinge di blu basta non dico niente basta chi deve capire ha già capito in chat sicuramente infatti io non ho detto niente zitti zitti no no niente basta ho già detto abbastanza posso dire una cosa ho visto qualche altra puntata intanto ho avviato la live comunque ho visto qualche altra puntata vostra affiancata di solito fighe perché a me non mi ha detto la figa cosa non ho capito la prima volta facciamo una roba ma io la proporrei ogni settimana come format siamo in sì Jack la prossima volta scegli te che ho chi venire le ore del mese facciamo no ma l'abbiamo fatta solo una volta la copiata ci mettiamo tipo che ne so madre natura che sta lì no perché diciamo che c'è un problema ecco la magia ha tanti pregi però c'è un difetto importante che lo scaccia figa per antonomasia non è vero non è vero prima io con Aston guarda me la dovevo crollare adesso dove cazzo è femmine giocate a magic no è vero io non incontro mai nessuna e infatti facciamo un annuncino io ce l'ho un po' di amiche che giocano a magic eccomi ho tal Alex ho detto eccomi oh vabbè due amiche mie le conoscete anche voi che non sono male una la anzi tre Jack su magic scusa Talia Filippa Zabracus ho capito straniere dove sono le italiane che cazzo mi frega della lingua ti tocca anche di prendere un pulo Jack non ti vedo nei canali raidabili hai startato? si ho startato da un bel po' perché non funziona non ti posso raidare dove sei forse perché mi stai ancora ostando no non credo ti sto ostando è chiaro che ti sto ostando e allora togli l'host no non posso raidarti devo togliere l'host la ragazza di Alex si scatena l'inciazzo il mostro niente niente si parla un attimo una rata abbiamo detto che mercoledì prossimo il canale si tinge di blu purtroppo su discord non ancora live perché ovviamente non si può ma prima o poi si tingerà di blu anche dal vivo e invece gli appuntamenti con me tornano domani alle 2 2 giù di lì come sempre l'appuntamento con il primato di malificio Rognoli è su youtube sempre su twitch la sera ricordamelo domani sera domani sera poi finito qua facciamo il il dopo tribale andiamo a spruzzare un po' di magia anche noi e allora facciamo radiamo jack che poi raderà a voi insomma e tiriamocela questa chat l'uno sul gruppone all'altro la nostra ufficiale domani siamo tutti da jack poi facciamo il dopo tribale alla prossima grazie jack per essere stato con noi grazie mille grazie a tutti un'ora e mezza piacevole di chiacchiere altrettanto grazie a tutti grazie a tutti